È molto semplice. Se nella vita vogliamo ottenere risultati superiori al 99% delle persone, allora dobbiamo essere disposti a fare qualcosa che quel 99% di persone non è disposto a fare. Sembra un concetto molto semplice, eppure se ci guardiamo intorno, se guardiamo ai contenuti che escono continuamente in giro per il web, sembra che per ottenere risultati strabilianti sia sufficiente compiere una serie di azioni. Basta svegliarsi ogni giorno alle 6 del mattino, iniziare subito ad allenarsi, poi meditare mezz'ora, poi essere disciplinati e in focus per 8 ore al giorno, e ripetere quest'azione all'infinito. Bene, parliamoci chiaro. Se bastasse compiere questa serie di azioni per ottenere successo nella vita, allora dovremmo avere tutti un enorme successo. E questo perché si tratta di semplici azioni che chiunque di noi può replicare, può adottare all'interno della propria vita. Se osserviamo però tante persone che hanno ottenuto enormi successi, parlando di successi professionali ovviamente, come ad esempio Warren Buffett, ci accorgiamo che non fa certo una vita da totale monaco come ci viene venduto, anzi, Warren Buffett ogni mattina va al McDonald's e fa una colazione che nessuno di noi probabilmente farebbe. E io stesso conosco una marea di persone che sono estremamente disciplinate, hanno una routine super ferrea, eppure non hanno ottenuto risultati così strabilianti nel corso della propria vita. E nel video di oggi vedremo esattamente cos'è che porta alcune persone a raggiungere risultati fuori dall'ordinario, mentre altre invece non ci riescono. E poi vedremo come questa serie di abitudini che ci vengono vendute a destra e sinistra da tutti i content creator del mondo poi possono effettivamente tornare utili. Ma solo se prima abbiamo chiarito un punto fondamentale. Quindi, cos'è che determina veramente il successo professionale di qualcuno? Il punto che dobbiamo chiarire è che svegliarsi alle 6 del mattino, vivere da monaco, fare una routine perfetta, non sono la causa del successo. Al massimo sono un acceleratore del successo, nel momento in cui abbiamo già intrapreso la strada corretta. Il motivo per cui siamo invasi da questi video è che quando osserviamo una persona di successo, la cosa più facile da vedere sono le sue abitudini, sono i suoi comportamenti. Vediamo che ha successo, vediamo che fa una routine di un certo tipo, mangia molto sano, va in palestra e quindi deduciamo che quei comportamenti l'abbiano portato a ottenere determinati risultati. Il cervello umano funziona così e questo perché sono cose facili da vedere e anche da replicare. È molto più facile pensare che sia quello il motivo del loro successo piuttosto che qualcos'altro. Il problema è che personaggi come ad esempio Steve Jobs non sono diventati Steve Jobs grazie alla loro morning routine, ma Steve Jobs è diventato quello che è stato perché è stato in grado di vedere il futuro dieci anni prima degli altri. Questa è la grande capacità che gli ha permesso di costruire quello che ha costruito. Il vero successo infatti non deriva dall'esecuzione, non deriva da determinati comportamenti, ma dall'essere in grado di individuare la cosa giusta da fare nel momento giusto. E solitamente si tratta di qualcosa che va in contrasto con l'opinione comune, con le credenze della maggior parte delle persone. Quindi quando ad esempio Steve Jobs sognava un mondo futuristico che sognava, la maggior parte delle persone gli dava contro, lo riteneva impossibile. È stato l'unico a crederci e infatti ha ottenuto un risultato spaventoso. Il problema è che dobbiamo riuscire a inseguire qualcosa verso cui tutti rimano contro e dobbiamo anche riuscire ad avere ragione. E questo ovviamente è molto molto complesso. Però ci sono cose giuste da fare che possono portarci a grandi risultati che già qualcun altro sta perseguendo. Non ci porteranno al successo di Steve Jobs, ma sicuramente possono farci ottenere risultati che non avremmo mai immaginato possibili. E come si trovano queste idee impopolari da seguire? Beh, il primo punto fondamentale è lo studio e la contaminazione continua. La tua mente infatti non avrà mai idee o intuizioni brillanti fino a che non la contamini nel modo corretto. Per contaminazione intendo sia lo studio, tutto lo studio che possiamo fare seguendo determinate persone, seguendo determinati percorsi formativi, seguendo determinati forum o community online, sia la contaminazione fisica. Se ad esempio siamo appassionati di innovazione tecnologica, dovremo andare a vivere in posti come ad esempio la Silicon Valley, perché avremo una contaminazione che non riusciremo ad avere da nessun'altra parte. E la velocità con cui ci faremo contaminare dalle idee degli altri non sarà replicabile da nessun'altra parte. Sostanzialmente dobbiamo riuscire a essere esposti a un ventaglio di idee, trend o movimenti a cui poche persone vengono esposte. Quando ad esempio ho iniziato la mia carriera nel mondo dell'online marketing, il mio percorso è iniziato proprio in questo modo. Nel 2014 sono entrato all'interno di una community in cui c'erano centinaia di persone, quasi tutte fuori dall'Italia, che facevano affiliate marketing. Nessuno sapeva cos'era l'affiliate marketing, pochissime persone praticavano questa disciplina. E in Italia, quando abbiamo deciso di perseguire questa strada, di lasciare l'università, di iniziare a lavorare nel mondo digitale, siamo stati derisi da quasi tutti gli amici, parenti, conoscenti. Uguale, quando sono uscite per la prima volta le criptovalute, magari un sacco di persone hanno iniziato a investire perché avevano intuito la forza di quella tecnologia. Erano stati contaminati da idee, da persone, che gli avevano fatto comprendere quel mondo. Ovviamente, più ci siamo formati in un determinato ambito, più aumenteremo le chance di stare inseguendo effettivamente il percorso corretto. Una volta chiarito questo fatto, ovvero che dobbiamo intraprendere azioni controcorrente, il secondo punto chiave da capire è che il successo non deriva dal numero di ore che lavoriamo, ma da poche decisioni prese nel modo corretto. Come disse Warren Buffett stesso, il successo enorme della sua azienda deriva da una dozzina di investimenti corretti. Una dozzina di investimenti corretti in una carriera di più di 60 anni. Ottenere tanto, infatti, nella vita non significa lavorare tanto, ma significa fare la cosa giusta sufficientemente a lungo. Guardate ad esempio i content creator. La maggior parte dei content creator non lavora più di 3-4 ore al giorno, eppure ha un successo, a livello sempre professionale, economico, superiore alla maggior parte delle persone. E questo perché hanno investito in un asset nel modo corretto che gli ha permesso di scalare enormemente il proprio lavoro. I content creator, infatti, hanno investito sulla leva dei media e la leva dei media è uno strumento che ci permette di amplificare l'output del nostro lavoro a parità di ore investite. Perché con un singolo contenuto con 5 ore di lavoro possiamo raggiungere centinaia di migliaia di persone. Le leve del business, ne ho parlato in tanti miei video, ne parlerò ancora, sono la leva dei media, oppure la leva della forza lavoro o la leva del capitale. Insomma, utilizzare strumenti che amplificano il nostro lavoro. Il motivo per cui faccio video YouTube, per cui mi occupo tanto di content creation, non solo su YouTube, ma anche su LinkedIn, su tantissimi social, è che ho ben chiaro che i social media sono una leva potentissima. Sono un megafono nelle mani di tutti. Un mio singolo post che impiego 20 minuti a scrivere può raggiungere migliaia di persone per giorni. E se ci pensate, è come se i miei post e i miei contenuti facessero il lavoro al posto mio, mentre io sto facendo qualcos'altro. Questi elementi sono la vera causa del successo di qualcuno. Ora che abbiamo compreso qual è la causa, quindi la nostra capacità di farci contaminare, di intraprendere il percorso corretto, di prendere le giuste decisioni, allora vediamo gli acceleratori. Tutti i comportamenti che poi ci aiutano a perseguire questa strada nel modo più ottimale possibile. Come primo punto, dobbiamo essere estremamente consapevoli di due cose. Cosa non vogliamo dalla vita e dove possiamo arrivare se continuiamo a ripetere la stessa azione sufficientemente a lungo. Questi due punti sono fondamentali. Cosa non vogliamo dalla vita è ciò che mi piace chiamare l'antivision. L'antivision sostanzialmente è il contrario della nostra visione. Il punto è che per gli esseri umani è molto più facile capire cosa non vogliamo fare, cosa non vogliamo ottenere, piuttosto che capire cosa vogliamo ottenere. E molto spesso per raggiungere un determinato obiettivo è molto più facile evitare di commettere degli errori, piuttosto che essere sicuri di stare intraprendendo la strada corretta. Quindi per antivision si intende pensare a cosa non vuoi ottenere e poi far di tutto per non ottenerlo. Io a un certo punto della mia vita mi sono seduto e ho iniziato a pensare a una serie di cose che non volevo per la mia vita. Non volevo un fisico non allenato, non in forma, non volevo sentirmi continuamente stanco. Quindi necessariamente dovrò allenarmi, dovrò fare uno sforzo per riuscire a migliorare in quest'ambito. Non volevo sentirmi ogni giorno confuso, con la mente annebbiata. E quindi ho iniziato a dedicare più attenzione al sonno, più attenzione magari a quello che bevo, a quello che faccio la sera. E di conseguenza sono riuscito anche comprando degli strumenti come Laura Ring a migliorare quello che è la mia lucidità durante il giorno. Il punto è che per noi è molto più facile attivarci quando vogliamo evitare qualcosa. Perché in quanto esseri umani ci attiviamo di più dalla fuga dal dolore piuttosto che dalla ricerca del piacere. Quindi come esercizio prova a sederti e pensa intensamente a tutte le cose che non vuoi nella tua vita. Partendo da cosa non vuoi, inizia a creare un piano di comportamenti, di cosa dovresti fare giorno dopo giorno per non finire ad essere chi non vuoi. Punto numero due, scompari da tutte le contaminazioni negative. Ricordati sempre una cosa importantissima, forse una delle lezioni di crescita personale più importanti che puoi imparare. La tua mente si allinea continuamente a ciò a cui è più esposta nella vita. Se la tua mente è continuamente esposta a persone, idee o comportamenti dannosi, per quanta forza di volontà puoi avere, si allineerà a credere che la realtà corretta è quella lì. In quanto esseri umani noi tendiamo a essere parte di un gruppo e naturalmente plasmiamo i nostri comportamenti per adattarli a quelli dei gruppi o delle situazioni all'interno delle quali viviamo. L'ambiente che ci circonda è fondamentale. Possiamo guardarci tutti i video di crescita personale della vita, possiamo cercare di lavorare seriamente ogni singolo giorno, ma l'ambiente che ci circonda determinerà i nostri risultati, determinerà i nostri comportamenti, più di qualunque altra cosa. Quindi allontaniamoci più che possiamo da tutto ciò che contamina negativamente il nostro pensiero. Possono essere un'eccessiva dipendenza dai videogiochi, può essere un'eccessiva dipendenza dall'alcol, possono essere persone estremamente, particolarmente dannose o controproducenti. Può sembrare una cosa molto drastica, ma il punto è che se non lo faremo, la nostra mente difficilmente riuscirà a cambiare. Punto numero tre, la disciplina. Di disciplina ne ho parlato tantissimo, ho registrato un intero video che vi lascio qua sopra se dopo volete vederlo. Un punto di cui però non ho mai parlato e che ci tengo a dirvi ora, è una cosa che ha sottolineato Huberman, professore di neurobiologia di Stanford. Vi consiglio di ascoltarvi il suo podcast, di guardarvi i suoi video, perché è il miglior podcast di biohacking forse che esiste al mondo. E sostanzialmente ha parlato di due funzioni importantissime all'interno del nostro cervello. All'interno infatti dei gangli basali ci sono due circuiti molto importanti. Uno è la funzione Go, che come suggerisce il nome, è un circuito che lavora per spingerci all'azione. Quindi quando vogliamo alzarci e prendere un bicchier d'acqua, prendere una tazza o prendere un oggetto, si attiva la funzione Go del nostro cervello. Oltre alla funzione Go esiste una funzione speculare, che è la funzione No Go, che invece è responsabile dell'inibizione degli impulsi. Questa sostanzialmente è la parte del nostro cervello che si attiva ogni volta che decidiamo di non mangiare quella barretta di cioccolato che vorremmo. Insomma, tutte le volte che decidiamo di fare una cosa contro i nostri istinti, contro i nostri stimoli interni. Ogni volta che le nostre maestre, quando eravamo piccole, ci dicevano di non fare una determinata cosa e di stare composti al nostro banco, allenevamo la funzione No Go. Bene, oggi più cresciamo, più diventiamo adulti, più abbiamo meno situazioni in cui possiamo allenare questa funzione. Perché ovviamente, essendo responsabili di noi stessi, tendiamo a lasciarci andare nella maggior parte delle attività. E in questo modo, però, diventiamo sempre meno disciplinati, diventiamo sempre più vittima degli impulsi. Quello che consiglia di fare Uberman, quindi, è allenare questo circuito del nostro cervello, almeno per un tot di ore al giorno, cercando di fare determinate azioni. Quindi, ad esempio, non afferrare il telefono mentre si lavora per scrollare i social media. Ogni volta che stiamo per usare il telefono e ci sforziamo di non usarlo, stiamo allenando la funzione No Go del nostro cervello. Esistono delle applicazioni, come ad esempio OneSec, che ogni volta che proviamo ad aprire un'applicazione, come ad esempio Instagram, ci chiede di prendere un respiro profondo e poi ci chiede se realmente vogliamo utilizzare questa applicazione. Oltre al telefono dovremmo riuscire ad avere blocchi lavorativi abbastanza standard, quindi decidiamo che noi lavoreremo sempre per 45-60 minuti di fila senza distrazioni. Altra cosa che l'allena è la meditazione. Riuscire a meditare o a fare degli esercizi di respiro anche solo per 10 minuti al giorno ci allena a resistere a tutti gli impulsi, a fare un'unica cosa resistendo a tutto ciò che abbiamo intorno. Ultimo punto importantissimo, il sonno. Sempre se inizierete a seguire Uberman, vi accorgerete ben presto che il fondamento della nostra salute fisica e mentale è proprio il nostro sonno. Il regolatore principale di stress, di dopamina, di serotonina, del nostro intero organismo è la nostra capacità di riposarci nel modo corretto. Io non sono un neuroscienziato, per quanto mi appassiona tanto di questo argomento, ho letto tantissimo a riguardo, ma vi rimando a un articolo che vi lascio qua sotto in descrizione a questo video in cui potrete approfondire tutto il discorso relativo al sonno. Ultimo punto, la capacità di saper ritardare le gratificazioni. Se guardiamo a tutte le persone che hanno ottenuto estremi successi lavorativi nella propria vita, sono tutte persone che sono in grado di sacrificare in parte il proprio presente per i risultati che potranno ottenere nel futuro. Il successo istantaneo è una cosa che non esiste, o il vero successo deriva dalle giuste azioni ripetute sufficientemente a lungo. Il problema è che noi siamo drogati di gratificazioni istantanee. Vedo tantissime persone che mi scrivono che iniziano a intraprendere un'attività, iniziano a intraprendere un lavoro, non ottengono risultati nel giro di un mese, nel giro di due mesi e improvvisamente cambiano tutto quello che stanno facendo. Ma questo è un comportamento che non ci porterà mai a nulla. È come quando andiamo in palestra. Se noi ci alleniamo, non ci siamo mai allenati e ci alleniamo per tre mesi. Non vedremo dei risultati così evidenti sul nostro corpo. Però abbiamo messo in circolo una macchina che poi giorno dopo giorno ci porterà sempre più risultati fino a farci arrivare al risultato che tanto sognavamo. Uguale per tutti gli altri ambiti lavorativi. Dobbiamo investire in qualcosa sufficientemente a lungo. Vogliamo aprire un canale YouTube? Vogliamo investire nella content creation? Non aspettiamo di vedere i risultati in due mesi. Aspettiamolo di vedere in un arco di un anno, in un arco di un anno e mezzo. Ovviamente, però, dobbiamo anche lavorare nel modo corretto. Ci sono persone che pubblicano video su YouTube da dieci anni e non hanno mai ottenuto risultati. Ma questo è perché non si applicano per cercare di migliorare l'output del proprio lavoro, per cercare di comprendere la piattaforma, per cercare di modificare le proprie azioni. Comunque, per il video di oggi è tutto. Fatemi, come sempre, sapere cosa ne pensate nei commenti. Trovate anche interi articoli, anche sul mio blog, su tutti questi argomenti. Comunque, in descrizione ci sono tutti i link vari a tutte le mie piattaforme. Continuiamo, come sempre, a sentirci nei commenti. Parliamone nei commenti sotto questo video. E noi ci rivediamo prestissimo in un prossimo video.